E per finire oggi è domenica, quindi dopo questo pranzo straordinario con caponata italiana, lasagna, tutto fatto in Italia, concludiamo con un dessert. Ecco qua, abbiamo prima reidratato il tiramisù, eccolo qua pronto, l'abbiamo messo in frigo. Adesso lo apriamo e andiamo a vedere il risultato. Io lo conosco già perché l'ho già provato. Ed eccolo qua, il tiramisù, il tiramisù spaziale pronto a essere mangiato e lo proviamo. E' buonissimo, fresco al punto giusto. E dopo aver finito il tiramisù, per poter continuare la giornata in maniera attiva, visto che anche la domenica comunque ci sono attività da svolgere, finiamo con un caffè espresso ricoperto da cioccolato.